Nell'ultimo anno il popolo afgano ha affrontato difficoltà inimmaginabili. In fuga da violenza e scontri armati, uomini, donne e bambini sono ormai stremati dal freddo e dalla fame. Non possiamo lasciarli soli, abbiamo bisogno anche di te. Invia un sms o chiama il 45 588 per aiutarli a sopravvivere. È un'emergenza, non è un gioco. Grazie a tutti.